bene buonasera a tutti benvenuti a questa serata mi chiamo luca casale e sono di udine sono laureato in scienze della comunicazione della scienze dell'educazione con indirizzo musicologico e diciamo alla musica il mio elemento e ho frequentato la scuola di cui ha parlato gigi la scuola sperimentale internazionale a udine e ho conseguito il master in psicologia e ma soprattutto ho approfondito tutto il discorso della respirazione di cui stava appena parlando katia quindi della possibilità di conoscersi in una maniera diversa molto diretta molto immediata e arrivare un po anche a quello che uno almeno per me è stato così quello che uno sta a fare qui in questo viaggio terreno ovvero io studiavo giurisprudenza e nel momento in cui sono venuto in contatto diciamo con questo tipo di tecniche particolare di respirazione mi sono un po innamorato e ho riscoperto più che altro quella che era la mia passione di base che avevo un po accantonato che è la musica per cui successivamente diciamo dopo essermi diplomato in questa in questa scuola o mi sono diplomato anche in una scuola di musicoterapia a roma il centro studi biomusica e quindi ho potuto ormai sono passati più di dieci anni mettere insieme un po il mio amore per la conoscenza di me ma anche delle altre persone la le competenze che potevo avere naturalmente nell'ascoltare magari quelli che potevano essere delle problematiche così spontaneamente e la musica cioè la mia passione di base sono la mia famiglia mio padre era musicista quindi qualcosa che mi è stato trasmesso ho studiato la musica fin da piccolo il pianoforte quando ho iniziato quando avevo sette anni ho studiato anche tanti altri strumenti e quindi penso che sia uno dei linguaggi più interessanti che bypassa la mente ed è molto democratico perché arriva a tutti indipendentemente dal centro sociale lingua la cosa incredibile che non è necessario parlare la stessa lingua perché la musica stessa un linguaggio quindi ho trasformato questa mia passione per la relazione d'aiuto e per la musica in in una professione sono faccio il musicoterapeuta ecco ho fatto anche per un po il musicista ma non era quello che mi soddisfaceva di più nel senso che mi piace lo scambio mi piace la relazione mi piace imparare dagli altri mentre lavoro quindi questo è un grande vantaggio ho la fortuna di lavorare con persone di tutte le età quindi dai più piccoli nelle scuole agli anziani quindi persone che hanno 90 e anche passa anni con cui attraverso la musica riusciamo a stabilire una comunicazione lavoro sia con persone che sono in una condizione di salute buona sia con persone magari che hanno delle problematiche o disabilità oppure con gli anziani in particolare demenza e quindi ho veramente una grande ricchezza di umanità che posso affrontare attraverso un linguaggio che quello della musica e mi ritengo fortunato per questo insegno da questa in questa scuola da quando è nata e quello che insegno è quello che io faccio nella mia vita cioè utilizzare la musica per migliorare quella che può essere una condizione di benessere delle persone o anche una scoperta di sé quindi usano diciamo un aspetto artistico per lavorare su quello che poi può essere una cura e per questo primo anno in particolare la mia materia è proprio quella che ha a che fare con il suono e la voce quindi il potenziale del suono e l'utilizzo della voce che attraverso parecchie tecniche che esistono un po in tutte le culture e che vengono considerate proprio come delle tecniche di base di guarigione non teniamo una guarigione medica ma un maggior contatto con sé con la propria energia vitale perché la voce esprime fondamentalmente il nostro stato d'animo quindi anche la nostra condizione energetica del momento non solo la nostra voce ma anche la voce delle persone che ascoltiamo quindi per un counselor per un naturopata saper ascoltare imparare ad ascoltare può essere una fonte di tantissime informazioni che non passano da un punto di vista razionale ma più dal punto di vista magari inconscio o intuitivo e poi accompagno gli allevi di questa scuola in tutte le in tutti questi anni proprio con questo filo conduttore del significato del senso della musica di come poter utilizzare la musica per potenziare quello che può essere un lavoro sul corpo e anche come migliorare per ritrovare quella che la propria voce naturale ecco questo è un po il il mio queste sono le mie materie di base inoltre approfondisco insieme anche a fabrizia iervese che conoscerete più tardi la tematica del lavoro ad approccio corporeo lavoro dolce ad approccio corporeo legato a meditazioni che hanno magari a che fare sempre con la musica con il suono e che anche queste portano anche sono un linguaggio molto antico che possiamo rincontrare che possiamo utilizzare proprio per conoscersi o per aiutare le persone a conoscersi quindi attraverso la meditazione sia meditazione molto antiche sia magari meditazioni più attuali una piccola parentesi in un'altra mia branca di lavoro che è quella con i ragazzi perché nel primo anno insegno tecniche di memoria e come migliorare il proprio metodo di studio quindi c'è un weekend in cui insieme ad un'altra collega trattiamo come poter potenziare le abilità di studio sia per i ragazzi sia per chi vuole aggiornarsi adulti lavoro con anche qui con un po nella mia professione con tutte le età e sono delle tecniche che ho imparato proprio perché dovendo diciamo studiare lavorare insieme mi servivano e poi le ho potute applicare la cosa che mi piace di questa scuola per cui consiglio di iscriversi nel momento in cui ovviamente se lo sentite di fare è un po quello che ho sentito io quando mi sono iscritto a scuola sperimentale cioè l'aspetto la l'importanza del respiro che e delle tecniche collegate proprio alla respirazione sono la velocità con cui si può entrare in contatto con se stessi anche con le proprie aspirazioni coi propri talenti come è stato anche per me è per me è stato sempre molto meraviglioso nel senso che mi sono sempre meravigliato anche di come è cambiata la mia postura di come sono cambiate anche le mie la mia il mio i miei stati come cambiano velocemente i miei stati emotivi quando riesco a mettermi in contatto con questo tipo di di pratiche e tutto questo per me è fondamentale nel mio lavoro nel senso che se io non sono in una buona condizione energetica posso avere anche la tecnica migliore del mondo ma avrà un'efficacia parziale quindi il lavoro che può fare un operatore nel momento in cui conclude questa scuola sicuramente avrà fatto un lavoro su di sé e avrà il potenziale di poter aiutare effettivamente un'altra persona al di là della tecnica che userà e ne conoscerete tante proprio perché sarà in grado di mettersi in una condizione tale da poter entrare in sintonia ma anche ai facilitare quella che può essere una trasformazione al di là appunto della tecnica che viene usata bene vi auguro di trovare quello che cercate grazie